Buonasera, buonasera a tutti! Uno, due, tre! I need to ask you something very important. Okay. It's showtime! Bomba ragazzi, quasi quattro anni fa ho avuto la possibilità di incontrare uno degli attori americani più grandi che vi abbia mai doppiato. Ovviamente sto parlando di Zachary Levi. È stata un'esperienza incredibile perché dovete sapere che Shazam, di cui tutti siamo innamorati come film, è stato il mio primo ruolo al cinema come protagonista. Ma è stato anche il mio primo supereroe. Insomma, un sacco di prime volte. Dai che è la prima, dai che è la prima. Comunque l'esperienza è stata straordinaria. Come potete vedere però stavolta non sono a Londra, sono a Roma. E tra pochi istanti avrò la possibilità di incontrarlo di nuovo. E domani sera di vedere finalmente al cinema Shazam Furia degli Dèi. Non merito questi poteri a essere sincero. Qual è il mio reale contributo? Doppiare Zachary Levi è sempre un'esperienza straordinaria. Sì, perché dovete sapere che io non l'ho doppiato solo in Shazam e in Shazam Furia degli Dèi. Lui è un attore veramente straordinario, ricco di sfumature e pieno di talento. Poi adesso che lo doppio da tanti anni so anche come doppiarlo meglio, no? E allora, ragazzi, non perdetevi Shazam Furia degli Dèi. Vi farei anche qualche spoiler, ma no. No ragazzi, lo dovete vedere perché è incredibile. Ho tirato un pick-up a un drago. Ciao ragazzi. Sì, sono davanti al Colosseo insieme a Zachary Levi. That's right, everything he said. Furia degli Dèi. Furia da DJ? Oh, sì, sì. Click the link right there. See you tomorrow. Yeah, tomorrow. Ragazzi, sono pronto per il fanscreening di Shazam Furia degli Dèi. Come sono bellino, eh? Guarda là, che eleganza. Sono molto emozionato per stasera perché stavolta per Shazam 2 sarò il presentatore della serata. Una serata incredibile. Sì, ho un po' d'ansia, però sono fiducioso. Poi stasera non ci sarà soltanto Zachary Levi. Ci sarà Helen Mirren, Lucy Liu, Rachel Zegler, il regista, David F. Sandberg. Insomma, sarà una serata incredibile. C'è una cosa in particolare a cui tengo. Per chi ha visto il primo film, saprà benissimo che diventa molto importante il concetto della Shazam Family. Tutta la famiglia acquisisce i poteri. Ora, io voglio chiedere a Zachary Levi se posso far parte della famiglia. Lo so benissimo che già sono occupati perché c'è un potere per l'Ethera, Shazam sono in sé. Però, secondo me, un modo lo troviamo. Speriamo non mi mandi a quel paese, ma non penso. Lui è veramente sempre carino e simpatico. Ragazzi, si fai in scena. Che cosa ti piace in particolare di questo personaggio? Ma di questo personaggio la cosa affascinante è, come mi disse il direttore di doppiaggio Carlo Cosolo, mi disse, è un po' come te. È grosso col cervello di un bambino. No, sta scherzando. All'inizio 3. Uno, due, tre. Allora ragazzi, ci siamo. Sta per arrivare il cast. Quindi tra poco mi daranno il microfono e mi appropinquerò al di fuori del fulmine per poter presentare il red carpet di questa serata magnifica. Ragazzi! Il primo ospite di questa sera è arrivato la saggezza di Salomone, il potere di Ercole, la resistenza di Atlante, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio. È arrivato Segari Rivain! Hi, brother! Buongiorno! 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 come Shazam's Italian voice, I get to shout Shazam so many times for all Italian fans. So many times. I would like to ask you to get officially, metaphorically, into the Shazam family. It would be a great honor for me. Sure, well, I mean, obviously it would be an honor for you. It's a pretty honorable position. Well, that's difficult though, because Shazam has six letters, you know, kind of six powers. There's more than that, but there's already six of us in the family, so I don't know how, you know what I mean? What do you think about the exclamation mark? Yeah, yeah, at the end of the day? Yeah, can I be the exclamation mark? You'd like to be the exclamation mark? Yeah, why not? I mean, I don't, yeah, I don't know. I've been so for so long in your mind to sink on your lips. Oh, yeah, yeah. That I'm sure I can read it. Okay. I can't. And on three, we try to say the same word that came up for one of our minds, okay? Any word? There's a category. Okay, the word category is red superheroes, okay? Let's do it. Okay, all right. One, two, three. The flash. The flash. I knew it. See? I'm in the red. Yeah, 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 yeah. As you can imagine, all my powers came from a voice. And I'm quite good at tongue twisters, you know? Okay. Yeah. Can I show you? Sure. Tito, tetto tardinti tetto, ma sei dei tredinti, non te ne entendi tanto. That's very impressive. I wish I spoke Italian. Yeah. It's all about painting roofs. Painting roofs, okay. You know a good one too? Yeah, I mean, let's see. Susie sells seashells down by the seashore. Rubber baby buggy bumper. Red leather, yellow leather. Red yellow leather. The arsonist had oddly shaped feet. Okay, two. Just one. Let me try just one. Susie sells seashells. Susie sells seashells. Down by the seashores. Down by the seashores. Yeah. That's right. I have my power in my voice. Yeah, okay, good. Okay. Oh, how can I show you my power? I can show you my Shazam. Sure. Shazam! I mean, that's pretty good. You like it? That's very solid. Huh? It's a really good, like, power powerful voice. Yeah, yeah, yeah. So I can be the exclamation mark now? Yeah. I am? Finally. Hey! I can show you my exclamation mark for the Shazam word. There you go, there you go. Zach, you're the best. Thanks, man. You're the best. Before we say goodbye, there's just one thing we have to do. Preparatevi a Shazam Furia Degli Dei dal 16 marzo al cinema. Okay. That was funny. Okay. Coraggio. I can I exercise it? It's funny. You're total white and total black. Yeah. That's true. Yeah. It's so funny. We're like yin and yang. Yeah, yin yin yin